Spara Spara Prova a uscire No, no, no Beh Quello che tu sei caduto No, vieni ai fatti se vivo Non mi vuoi, no? Quello che tu vuoi uscire Poi in questo momento Continuo a Controllare Adesso mi interessa che tu solo Prima Da te gladi Ma fra tu Faci lefti Qui 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 l'amore che ci sono qui qui l'amore 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 il nostro canale qui guarda c'è la prima qui io prendo qua io parlo di questo guarda guarda ora ora Vedi, 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 vedi. Vedi, 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 vedi. Vedi, vedi, vedi. Vedi, 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 vedi. O mittjqui a si, il proprio il tuo ampio litio.. non devi fare anche Qu.. poi.. gi te r Heck.. andiamo ora proprio tra lafordizione Ub thenmi… Fa原.. Questa era troppo brusko io esco o io ti tiro, due forze insieme, giù e là, separato, separato funziona perché io sono scaricato, fuori da carico il grammo, però non c'è il grammo, tenere via, si, no ancora, vedi lui ti prende, si, dove ti hai fatto il programma, quando lui ti spinghiava, è andato fuori, scusami, lui ti prende, ah ok, tu l'hai buttato proprio, perché hai preso sotto la stella, l'ho andato così, no e tu hai buttato di là, poi era fatale, e lui ti ha tirato, e lui ti ha tirato, e tu sei, grazie